Beh, intanto bisogna, perché anch'io lo riconosco e tutti lo riconosciamo, bisogna aiutare le persone che sono senza reddito e purtroppo sono milioni e speriamo per poco. Però se noi vogliamo recuperare questo enorme buco che abbiamo nella nostra economia, ma anche nella nostra vita, dobbiamo cominciare subito a rimboccarci le maniche, ma con intelligenza, cogliendo le potenzialità dell'innovazione, della conoscenza. Io penso, per esempio, ci sono milioni di persone che sono in cassa integrazione, che ancora non possono lavorare. Facciamo un grande investimento nella loro formazione digitale e questo gli permetterà di riprendere anche la crescita con più vigore.